mi trovo in compagnia del metra mira nicola carini che presta il suo servizio ormai da tanti anni presso l'eco resort le sirene per dare il via a quello che sarà il secondo flambe della giornata abbiamo visto precedentemente abbiamo creato un ottimo primo quindi diciamo che adesso deve un secondo piatto sarebbero i gamberoni e cozze flambate alla vodka con una definitura di un pate a base di pomodoro e spigola andiamo a procedere devo mettere dell'olio e andiamo a soffriggere degli spicci d'aglio facciamo rosolare un po certo un po d'aglio tempo di riscaldare l'olio certo e andiamo ad aggiare i gamberoni sono proprio grandi eh sì andiamo a salare quindi pepare aggiungiamo anche le cozze aggiungiamo anche le cozze aggiungiamo anche le cozze e E adesso andiamo a sfumare con la vodka. Sì. Olle! Adesso andiamo ad aggiungere il nostro patè. Serve un patè di spigola e pomodoro. Un patè di spigola e pomodoro. Ringraziamo quindi di nuovo la ditta in mare per averci dato questo sugo pronto alla spigola. Del resto aggiungiamo dei pomodorini. Sì. Aggiungiamo anche un po' di friscus. Sarebbe. Lo aggiungiamo prima. Per dare quel tono di croccantezza. Prima. Tempo di stringere la salsetta. E certo. E quindi poi... È tutto pronto. È tutto pronto. Pesto di menta. Sì. Grazie. Grazie. Mettro. Grazie. 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 Grazie.